Per trasformare una linea in uno zizzago o una linea ondulata è sufficiente selezionarla andare nel menu effetto e scegliere distorci e trasforma zizzag. Nella finestra che si apre si può decidere la dimensione e il numero di zizzag e soprattutto se li vogliamo arrotondati o ad angolo quindi possiamo decidere il numero di onde e il numero di altezza delle nostre onde per ottenere il risultato desiderato quindi possiamo fare veramente in pochi secondi un'onda perfetta. Possiamo lavorare anche su una figura chiusa ovviamente con la stessa opzione se scegliamo zizzag possiamo aumentare le dimensioni il numero di punte e in questo modo abbiamo ottenuto una forma con le punte.